Con Dario e Sergio Petrone, un'intervista doppia per commentare questa stagione della Quiglia Cupe a Cireale. Dario, iniziamo da te. Che stagione è stata a livello personale, ma anche a livello di squadra? È stata una bella stagione, è stato l'esordio per noi quest'anno in Serie B. Soprattutto alla fine, è stata una stagione in crescendo, siamo riusciti a fare 10 punti nelle ultime 4-5 partite. Comunque è un'ottima stagione, poi a livello di squadra tutto bene. Sergio, un giudizio invece da parte tua? Sì, come ha detto Dario, è stata una bella stagione, una bella esperienza anche per noi che è stata la prima volta in Serie B. Ci siamo tratti bene con tutta la squadra e siamo riusciti comunque a superare, a raggiungere l'obiettivo della salvezza. Siete stati poi la squadra a rivelazione, si può dire così, visto che un settimo posto forse era inaspettato alla vigilia? Sì, comunque è stato un bel risultato, è stato un risultato inaspettato appunto, nessuno si aspettava appunto dall'inizio di questa stagione. Quale può essere il futuro di questa squadra che si avvalsa anche dell'esperienza di due o tre elementi che hanno portato forza e hanno portato un po' di conoscenza, hanno fatto crescere i più giovani? Sì, sicuramente Walter, Antonio, Luca Nicote e Luca Zapparaccio hanno dato una grande mano, soprattutto all'inizio della stagione. Poi da dicembre quando si è inserito Walter ha portato gioia in tutto il gruppo, diciamo. No, è stata una bella esperienza, speriamo che il progetto continui e che l'anno prossimo si possa tornare in B2 per vestire la maglia dell'Aquilia.